Esercizio numero 11. Quali sono i punti principali su cui si basa il modello atomico di Bohr? Il modello atomico di Bohr si basa sulla rappresentazione dell'atomo con un nucleo centrale, così come aveva definito anche Rutherford, nel quale è rappresentata e rinchiusa tutta la massa e tutta la carica elettrica positiva e sette livelli elettronici indicati con il numero quantico principale n, che varia da 1 a 7, qui ne sono rappresentati 5, che si trovano a distanze ben precipice e hanno energia ben quantizzata. Si tratta di onde stazionarie che significa che l'elettrone, quando si trova in una di queste nell'orbita numero 1, l'elettrone dell'atomo di idrogeno, quando si trova nell'orbita numero 1, è stabile, cioè non cade sul nucleo. Dopodiché questo elettrone che si trova nello stato fondamentale su n uguale 1, sul livello più vicino al nucleo, può essere eccitato ad n uguale 2, n uguale 3, n uguale 4, ricevendo energia sotto forma di energia elettromagnetica e questi si chiamano stati eccitati. L'elettrone eccitato non resta nello stato eccitato, eccitato allo stato 2 non resta nello stato 2, ritorna allo stato fondamentale, eccitato allo stato 7 non resta nel livello 7, ritorna allo stato fondamentale. Quando ritorna allo stato fondamentale avviene l'emissione delle radiazioni elettromagnetiche corrispondenti esattamente all'energia del livello eccitato di partenza e fondamentale se torna direttamente allo stato fondamentale o del livello eccitato intermedio. Quindi le radiazioni emesse corrispondono esattamente alle energie, alla differenza di energia che ci sono tra i livelli energetici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e nello specifico del salto energetico che compie l'elettrone.